Benvenuti a questa puntata di Spazio Salute e Sanità. Siamo in studio con il professor Antonio Moschetta dell'Università di Bari. Parleremo di sovrappeso, di obesità, di alimentazione corretta e il professor Moschetta ci dirà anche dei suggerimenti su come e forse anche quando è più conveniente e più utile mangiare. Voi potete intervenire con le vostre domande o osservazioni telefonandoci al numero 080 501 9998. Allora, professor Moschetta, un nuovo termine, nutrigenomica. Che cosa è? Sì, buonasera a tutti. La nutrigenomica è una nuova branca del sapere biomedico. È un lato della scienza che si occupa di studiare come i nutrienti, cioè i composti che noi assumiamo durante il pranzo, la cena, con l'alimentazione, riescono a cambiare i nostri geni. Perché è la nutrigenomica? La nutrigenomica è nata dall'idea che l'ambiente e da questo punto di vista la nutrizione, cioè i nostri alimenti, possano essere in grado direttamente di attraversare le nostre cellule, giungere nel nucleo che è quella zona centrale lì dove si decide come dobbiamo diventare sulla base delle proteine e dei geni e cambiarci dal punto di vista strutturale. Tutto questo è estremamente interessante per due ragioni. Per la prima ragione... Per la prima ragione è quella di poter avere finalmente nella nutrizione, così come in quelle terapie farmacologiche chiamate target, l'utilizzo di una alimentazione personalizzata. Cioè quando noi saremo in grado di scoprire e di capire come il nutriente accende e spegne quei determinati geni in quel determinato paziente, noi possiamo finalmente dire a quel paziente quali sono gli alimenti da assumere, in quali orari e con quale modalità. La nutrigenomica è proprio la scienza che studia il ruolo dei nutrienti e dei componenti biattivi del cibo sui geni. Se vediamo la prossima diapositiva, ci rendiamo conto di come i nutrienti sono in grado di arrivare, vedete, direttamente al DNA. Che cos'è il DNA? Il DNA è quella molecola che noi riceviamo dai nostri genitori. Il DNA è quel codice che deve essere scritto perfettamente bene perché altrimenti ci troveremo dinanzi a delle malattie a diffusione genetica, a trasmissione genetica, malattie che possono essere rare ma anche altamente importanti. Nel caso della nutrigenomica non è importante tanto il DNA che riceviamo dai genitori, ma la modalità come con l'ambiente e con i nutrienti noi siamo in grado di cambiarlo. Quindi addirittura noi modifichiamo il nostro DNA mangiando? Esatto, più che modificare il nostro DNA noi accendiamo e spegniamo i nostri geni. Guardi, il DNA è come se fosse una tabella, deve essere tutto ben scritto ma è una tabella ferma. Con i nutrienti ma anche con gli ormoni noi siamo in grado di spingere un bottone preciso e come un interruttore della corrente elettrica è accendere o spegnere un gene. Accendere un gene per essere pratici significa farlo diventare proteina e quindi avere quel ruolo, quella funzione che noi cerchiamo, assorbire il glucosio, assorbire il colesterolo, seccernere gli ioni. Tutte queste funzioni sono dovute alla modalità con cui dal DNA si accendono i geni che diventano proteina e hanno una funzione. Ma questo per l'organismo e per il cervello esiste qualcosa di simile? Guardi, per il cervello la domanda è altamente interessante. Tutto questo avviene a tutti i livelli cellulari. Ovviamente molti dei nostri tessuti sono più aggredibili per poterli studiare. Tenga presente che per la nutrigenomica noi oggi utilizziamo le cellule circolanti perché facciamo un prelievo come quello che i pazienti normalmente fanno per avere i livelli di colesterolo, di glicemia, di trigliceridi. Noi invece prendiamo le cellule e lo facciamo prima e dopo aver assunto quel nutriente vediamo come i geni si accendono e spengono. Per il cervello ovviamente questo è difficile da provare ma decisamente i test sui modelli animali e sui pazienti in studio ci dicono che anche l'accensione e lo spegnimento di determinate attività cerebrali dipendono da determinati alimenti dove l'accumulo di determinate sostanze può giocare per esempio un ruolo negativo in determinate funzioni. Da un po' di tempo si parla di sindrome metabolica un nuovo aggregato di sintomi che cosa è? Ecco sindrome metabolica questa è una domanda importante perché la sindrome metabolica? Vede fino a dieci anni fa si parlava unicamente di obesità l'obesità è un concetto che noi abbiamo in clinica basato sul peso e l'altezza di una persona tantissimi gruppi nel mondo studiavano gli obesi alla ricerca delle loro comorbidità quali erano le patologie che avevano per il fatto di essere obesi e c'erano tanti e ci sono tanti pazienti obesi che sono cosiddetti non complicati o obesi sani. La sindrome metabolica è stata creata come nuova condizione clinica che in realtà come vediamo nella tabella è una estrema novità in medicina perché rappresenta la copresenza di diverse condizioni. Tra questi le novità più importanti sono la circonferenza vita e questo è importantissimo perché non si parla più di peso corporeo ma si parla con un centimetro di misurare la nostra pancia. Il girovita. Il girovita per noi adesso lo diremo se avremo tempo che siamo una popolazione che per anni è stata estremamente protetta dalle malattie cardiovascolari ma anche dalle malattie tumorali ecco noi abbiamo acquisito purtroppo i primi posti pensiamo per l'obesità infantile siamo ai primi posti in italia come incidenza e per la sindrome metabolica in relazione alle modifiche nutrizionali noi abbiamo acquisito anche una incidenza molto elevata con un enorme rischio di malattie cardiovascolari. Siamo uomini di pancia insomma. Esatto noi siamo uomini di pancia potremmo andare in giro con un centimetro per dire a quel paziente attenzione lei è un paziente a rischio non deve più badare unicamente al dato della bilancia ma basterebbe avere una circonferenza maggiore di 88 centimetri nella donna e maggiore di 96 o 92 se vogliamo essere molto stretti nell'uomo perché sia necessario rivolgersi ad un medico e fare una progettualità per il ritorno ad una condizione di normalità. Ecco in Puglia che sta succedendo? Ma i dati i dati guardi non sono definiti che cosa è successo noi siamo una regione del sud che era da sempre protetta da una serie di malattie perché avevamo la dieta mediterranea dico avevamo in realtà adesso c'è una voglia e c'è una forza enorme ringraziamo tutti i mass media e i giornalisti per spingere verso il ritorno alla dieta mediterranea che ricordiamo è stata definita patrimonio dell'umanità dall'unesco due anni fa ora il concetto qual è? Abbiamo cambiato un attimino le abitudini alimentari e riallacciandoci al concetto precedente di nutrigenomica abbiamo cambiato purtroppo anche gli orari in cui assumiamo gli alimenti la nostra dieta mediterranea era una dieta che ci proteggeva abbiamo tantissimi articoli pubblicati sulla letteratura ufficiale ad elevato impatto che dicono che lo stile di vita mediterraneo inteso come orari giusti esercizio fisico e assunzione di alimenti se avremo tempo lo diremo ci proteggeva da una serie di patologie adesso con la sindrome metabolica che cosa è successo abbiamo soprattutto cambiato gli orari in cui assumiamo gli alimenti ci siamo purtroppo molte volte allontanati da quelli che erano gli alimenti naturali dalle proteine vegetali dal grano integro dall'orzo dai legumi abbiamo allontanato soprattutto i nostri figli dalla conoscenza dell'importanza di frutta verdura legumi abbiamo addirittura in alcuni casi consigliato ai pazienti di diminuire l'assunzione di olio extravergine di oliva pensi l'olio extravergine di oliva è probabilmente il nostro vero oro tutto questo ha portato negli anni a modificarci e noi siamo ai primi posti per quanto riguarda l'obesità infantile il warning i dati ultimi del ministero della salute che sono stati pubblicati nella conferenza dal presidente napolitano ministro balduzzi a novembre pongono la puglia ai primi posti in italia per la obesità infantile e questo è qualcosa che ci deve far riflettere ci sono tanti sforzi da parte delle istituzioni delle università dei formatori degli ospedali per tentare di fare di più e io credo che non dobbiamo buttare la spugna perché siamo dinanzi ad un trend negativo che dobbiamo invertire e i primi i primi passi di una leggera inversione già dovrebbero iniziarsi a vedersi a breve tempo e quello che noi abbiamo il dovere di fare è quello di comunicare di formare ecco di cercare di informare e questo allontanarci dalla dieta mediterranea influisce anche sui nostri cervelli sulla nostra intelligenza che sì il dato sulla intelligenza individuale non è un dato chiaro bensì influisce molto anche sulla longevità soprattutto sulla qualità di vita quindi sulla prevenzione delle demenze presenili noi sappiamo che i dati tra l'altro anche della nostra università di Bari di bravissimi colleghi ci dicono che l'utilizzo di dieta mediterranea è davvero alla fine nonostante il grande armamentario farmacologico l'unico presidio che significativamente ci allontana dalle demenze presenili ci allontana dalle forme di invecchiamento precoce d'altronde professore lei lo sa longevità e mantenimento di funzionalità dipendono dall'assunzione di alimenti giusti gli acidi grassi essenziali dalla piccola assunzione di energia e dalla restrizione calorica quindi mangiare bene e non mangiare tanto è decisamente il primo movens per mantenersi bene negli anni. Parlando di orario quali sono queste ore clou? Ecco vede lo studio dei ritmi circadiani cioè di come noi cambiamo durante la giornata è diventato uno studio estremamente importante anche dal punto di vista della nutrigenomica cioè delle relazioni con i geni. Noi sappiamo che abbiamo un'energia basale che ci modifica per esempio al mattino e subito dopo pranzo. Ne parliamo subito dopo la telefonata. Pronto?